Ci sono tre grandi forze nella natura, le montagne, gli oceani e un uomo impegnato. Partiamo da questo concetto. Immaginiamo un uomo impegnato in una giusta causa e quindi un uomo consapevole di ciò che fa e del perché lo fa. Quest'uomo ha una sua visione della vita, ha una sua morale. Questo è un uomo che fa buon uso della sua umanità ed è un uomo che tendenzialmente sta bene. Perciò possiamo dire che migliore è l'uomo, maggiore è il benessere di cui potrà godere. Ma bisogna intendersi sul significato dell'aggettivo migliore. Cos'è un uomo migliore? Quando l'uomo dà il meglio di sé e quando dà il peggio? La malattia mentale spesso si associa ad una vita povera di intenti, ad una vita poco entusiasmante, poco impegnata per tornare l'uomo impegnato come forza della natura. Per essere impegnato l'uomo ha bisogno di motivazioni e quindi la nevrosi può essere vista come una povertà d'animo che ci attanaglia quando non siamo motivati nella giusta direzione. E questo avviene quando non siamo in pace con noi stessi, ma siamo ripiegati in noi stessi, incapaci quindi di dar voce al nostro talento inespresso. Il talento richiede una motivazione a realizzare il nostro progetto esistenziale. Alla base però c'è sempre il conosci te stesso. Realizzare se stessi significa fare qualcosa con autenticità e quindi con dedizione. Naturalmente per realizzare il mio progetto devo prima conoscermi e devo accettarmi, assecondando poi la mia natura, non contrastandola. Ogni persona deve essere consapevole delle proprie debolezze e delle proprie forze, soprattutto metabolizzando i traumi del passato e chiudendo le situazioni irrisolte. Tutto dipende dallo stato mentale. Se pensi di essere un perdente, perderai. Se vuoi vincere ma pensi che non ce la fai, è quasi certo che non vincerai. Chi vince è colui che sa di potercela fare e la conquista di se stessi è la più grande delle vittorie. In ultima analisi, l'aiuto più importante ci viene da noi stessi. Solo noi possiamo fare del nostro meglio, dedicandoci anima e corpo ad un certo compito. Dice un detto, ascolta il tuo cuore e fai ciò che ti esalta. Non pregare per una vita facile, prega per avere la forza di affrontare una vita difficile. Ora, per elevare il nostro potenziale, il sapere non basta. Dobbiamo applicare ciò che sappiamo. E dobbiamo anche volere, ma volere non basta. Dobbiamo poi agire. Dopo che passiamo all'azione, troviamo degli ostacoli. Ma è la reazione di fronte agli ostacoli ciò che conta, non l'ostacolo in sé. La sconfitta non esiste fino a quando non la consideriamo come tale. quante volte abbiamo incontrato degli ostacoli. L'ostacolo è come un insegnante che mette a nudo la nostra vulnerabilità, incitandoci ad esplorarci internamente, interiormente. Dopotutto l'intera conoscenza significa autoconoscenza. E senza frustrazioni non potrai mai scoprire se sei in grado di fare qualcosa da solo. Si cresce attraverso i conflitti. Il conflitto è come l'educazione. È il primo passo verso qualcosa di meglio. Se vogliamo vivere la nostra vita al meglio, dobbiamo imparare a lasciare andare il giudizio, i pregiudizi e le convinzioni più rigide. Non c'è bisogno di essere giusti o sbagliati, o di essere migliori di qualcun altro. La vita è qualcosa che non trova risposta. Deve essere compresa momento per momento, con onestà però. Esprimersi onestamente senza mentire a se stessi richiede un lungo lavoro interiore. Una delle più gravi cause del fallimento è la mancanza di onestà con noi stessi. Proprio l'onestà con noi stessi ci fa diventare un essere umano migliore. La vita è un continuo processo di relazione. Si tratta di uscire dal proprio guscio e di aprirci agli altri. Ma bisogna aprirsi a se stessi autenticamente e onestamente. Bene, io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata e sia consulenze con la telefonata. Per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo un messaggio. Come funziona la consulenza? Poi potete visitare anche il mio canale youtube dove troverete oltre 400 video. Inoltre sono presente su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia. Arrivederci.